E bello a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube in questo nuovo video. Oggi siamo in una location un po' insolita, perché sono qua a casa mia in campagna. Siamo in compagnia delle mie bellissime paperelle, eccole qua. Non so se le state vedendo, però ve le sto inquadrando, spero che si vedano, ma ci sono, le paperelle sono presenti. Insomma, parliamo del Cosenza, parliamo del Cosenza. Cosenza 1, Frosinone 2. Premesso che abbiamo giocato malissimo, perché abbiamo fatto solo un tiro in porta con Merola, che tra l'altro è il tiro con cui abbiamo segnato nel primo tempo, siamo andati in vantaggio, però ci siamo illusi, ci siamo illusi, perché poi il Frosinone ha iniziato a fare la partita. Però ci tengo a sottolineare gli errori arbitrali, perché comunque non è possibile che almeno quasi tutte le partite, tranne qualcuna, il Cosenza quasi ogni volta subisce torti arbitrali. Lancio questo appello alla FIGC, FIGC, se state guardando questo video e pensano proprio di no, pensiamo proprio di no, un po' di attenzione quando scegliete gli arbitri per le partite del Cosenza, sia in casa che fuori casa, perché non è possibile che quasi ogni volta ci capita l'arbitro che fa l'errore, perché per me quei due gol sono in fuorigioco, doveva mandare lui al VAR, secondo me, per me, poi ognuno pensa quello che vuole, insomma. Ognuno si fa le sue riflessioni, però secondo me quei due gol, almeno uno era da annullare sicuro, il secondo non lo so, però almeno uno secondo me andava annullato. Poi vabbè, l'arbitro ha scelto così, non ci possiamo fare niente, abbiamo perso. Quindi alziamo le mani e tiriamo avanti. Io allora mi aspetto che mandino via Dionigi, perché è impossibile continuare così. Cioè sembra di stare in un film, in una commedia, dove questo gioca a fare l'allenatore e finge di esserlo, perché non è un allenatore Dionigi, ragazzi. Dionigi, cioè sembra che è venuto a Cosenza per gioco, per gioco. Non so che cosa gli avrà detto all'allenamento, poi quando abbiamo segnato sono andati tutti ad abbracciarlo, ma che cosa ti abbracci? A questo lo dovete cacciare, cacciare. Ho già visto che è uscito un articolo poco fa dove già mi ha detto che stanno già pensando a cosa farne di Dionigi se tenerlo o mandarlo via, però a sto punto mandatelo via. Ci avete dato l'ultima chance e mo' mandatelo via. Scusate ragazzi, un po' di tosse. E niente, purtroppo è andata così. Speriamo bene per la prossima partita, dai, anche se ci sarà ancora Dionigi. La vedo dure. Però niente, questo. Ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima.